Spegnere Whatsapp almeno un poco ogni giorno durante il periodo della quaresima per avere il tempo di guardarsi negli occhi o per dedicare tempo a chi è meno fortunato di noi. L'idea decisamente controcorrente è di Don Valentino Porcile, parroco della Chiesa della Santa Annunziata di Genova Sturla, che l'ha lanciata sui social. Questo è il digiuno che proporrò in questa quaresima ai ragazzi e ai genitori domenica prossima, scritto sulla sua pagina Facebook, e lo propongo a tutti, a me stesso per primo. Altro che digiuno dal cibo o astinenza dalle carni, mi piace molto l'idea di vedere Gesù che mi prende l'iPhone e me lo butta nel lago di Tiberiade e mi dice, lascia le tue reti wireless e seguimi. Il prete ha proposto quindi di occupare il tempo in cui Whatsapp sarà spento, un tempo drammaticamente lungo, con relazioni vere, autentiche, due ore di chiacchiere, di guardarsi negli occhi o semplicemente usate per parlarsi, o dedicare questo tempo a chi è meno fortunato di noi. Un modo simpatico per lanciare un messaggio importante di riflessione non solo cristiana, ma anche laica, e pensare quindi a come le nuove tecnologie hanno cambiato la nostra vita e il nostro modo di rapportarci con gli altri, provare a disconnetterci dal resto del mondo per connetterci con chi ci sta a fianco.